Dopo circa 20 anni è stata resa nota una lettera scritta da Lady Diana in risposta a una sua fan. A pubblicarla è stato il Daily Mail perché proprio in questi giorni il documento è finito all'asta per 4.000 dollari. La lettera è datata 29 novembre 1995 e la destinataria si chiama Erika, una donna comune che stava vivendo un momento difficile e per questo cercò una parola di conforto proprio dalla principessa scrivendone una lettera in cui parlava della sua situazione. Quella parola di conforto da Lady Di le arrivò probabilmente perché lei stessa stava vivendo una situazione simile e per questo si riconobbe nell'angoscia della sua fan. In quel periodo infatti la principessa aveva ufficialmente chiuso il suo matrimonio con Carlo. Nella sua lettera infatti si legge carissima Erika ho ricevuto la tua lettera e l'ho letta con preoccupazione spero di esserti di supporto per quello che posso. C'è un grande dolore dentro di te, un blocco come lo chiami tu, una risposta naturale per una persona che sta attraversando dei traumi come quelli che stai vivendo. Leggo tra le righe della tua lettera che c'è una donna speciale alle prese con una mancanza di autostima a causa di tutti i lividi che ha addosso mentalmente e fisicamente. Si legge ancora nella missiva. So che ci ha voluto un grande coraggio per scrivere come hai fatto tu e con questa stessa onestà la luce apparirà nel tuo tunnel. Ti sto pensando molto, resisti Erika, con tanto affetto, Diana.